Non so se se lo ricordo, ma secondo me se si ricorda l'Equipe 84, vagamente, vagamente, lo sapevo che una che se lo ricordava vagamente, però mi ricorderà, sicuramente si ricorderà uno dei pezzi storici di questo gruppo, dell'Equipe 84, non so, chissà, se lo ricordo? E poi lei mi dica, quale sarà un pezzo di questo Equipe 84? Sicuramente si ricorderà, non so neanche un pezzo di questo, il marito sicuramente si ricorderà, che dice, che dice il marito? Lo vedo più preparato, lo vedo più preparato, lo so, eccolo qua, Sti Equipe 84, me ne ricordate Sti Equipe 84? Dico del telefonino, Equipe 84, cosa le vuol venire in mente? Maurizio Valdonetti. Maurizio, eh, ci stiamo, stiamo già andando su quella strada, è più vecchio, non andiamo a infilare, eh, per favore, ma un pezzo storico di questo avvento, quello lo vedo più. Quindi ho beccato i due peggiori, peggiori, ho beccato forse qualcuno lì, chi si ricordava Sti Equipe 84? Un sondaggio, cosa troppo ragazzo, se lo ricordo. Chi si ricordava Sti Equipe 84? Altate sta mano, fatemi, fatemi vedere, si aspetti musicali. Eccolo là, non sapete dove andare, ma vado dai ragazzi perché i ragazzi hanno un bagaglio musicale. E mi viene da chiedere comunque di questo Equipe 84, ci sarà un pezzo sicuramente storico che li rappresenta, ce ne sarà più di uno, no? 29 settembre. 29 settembre può essere un pezzo che rappresenta il Equipe 84, ma sicuramente ce ne sta proprio dietro a tutti, ma sicuramente ci sarà un altro pezzo, storico e storico, mi sanno due o tre pezzi di questo Equipe 84? Vado dal ragazzo, vado dal ragazzo qui che forse ci ha lasciato, ci lancia qualcuno. Quindi, caro, i miei piedi. Lo che che è? Michele, lei viene da Portici, 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 Bella Vista. Ciao! C'è qualcuno di Portici, ha questo gruppo di Portici. Caro Michele, si parlava di Equipe 84, si parlava di questa super band rispetto a questa musica giovane, sti ragazzi. Che ne pensi di questo rapporto tra la musica del passato? Cioè, forse qualcosa in più. E un po' di carica in più. 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 Un po' di carica in più, sono d'accordo. Ma, quindi questo pezzo che va a rappresentare questo Equipe 84, quale può essere? Ho in mente te. Bravo. Secondo me, come voi? Io ho in mente te. Secondo me, è proprio io ho in mente te. Sì, sono d'accordo con te. Apro gli occhietti pesi, ed ho in mente te. Apro gli occhietti pesi, ed ho in mente te. Ogni mattina, e la sera, ed ogni notte te. Con sole è la stessa. Che cos'è le scape? E non so cos'è. E voglia di andare, e a darmene via. Non posso pensare, ma poi ti penso. L'applauso e i delicati! Ehm...